Scrivete, se avevi bisogno di qualcosa, fazemi sapere. Il 1978 fu un anno eccezionale. La nostra vita cambiò radicalmente. Dai, c'è solo questione d'abitudine. Tu non riesci neanche a immaginare quello che vedo io ogni giorno. Biglietti per il cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti. Ma tu le donne non le sogni mai. Tutto il resto passò in secondo piano. Madonna, che occhi. Non mangia più. Guarda, 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 che occhi sbattuti. So io che il problema c'ha detto. Più cercavo di non pensarci, più lei mi chiamava. Fai in modo che possa incontrermi lì. Tu sei innamorata? Sì, ma lui non mi vede. Come se fosse invisibile. Se uno pensa tanto a una persona, in una qualche maniera, questo pensiero può arrivare all'altra, anche se lontana. Shape your food in. Shape your food in. Shape your food in. Grazie a tutti.